Milano merita di essere informata in maniera puntuale, immediata e precisa. I protagonisti siete voi che vivete e girate le strade di questa grande città. Voi che siete il tessuto vitale di una metropoli in continuo movimento e cambiamento. Un solo canale per avere ogni giorno tutte le informazioni che ti servono. In pochi minuti, sul tuo cellulare o sul tuo computer, ogni mattina le notizie più importanti su Milano e Interland. Una redazione, due anchorman e una squadra tecnica per seguire da vicino tutti i fatti che rendono speciale la nostra città. Tutto questo è Good Morning Milano!